Sono Giulio Pontigia di Clicutility, il bilancio è molto positivo naturalmente, sono stati due giorni che hanno comportato un grosso lavoro di costruzione, però le soddisfazioni sono buone. In particolare direi che il waterfront è quello che ci ha dato gli stimoli maggiori dal punto di vista anche della partecipazione dei relatori sia internazionali sia locali perché siamo riusciti a far parlare quelli che hanno fatto la storia, hanno fatto il percorso e anche quelli che adesso si trovano questo gioiello in mano al Porto Antico ma devono rilanciarlo e svilupparlo su indirizzi nuovi. Quest'anno abbiamo per la prima volta costituito questo triplice appuntamento che secondo me vale la pena di continuare anche provando a sviluppare interventi su altri territori e città. Poi siamo impegnati in altri progetti, per noi la sfida importante sarà quella della robotica all'aprile del 2013, è un percorso che abbiamo cominciato da un anno, proviamo a portare a Genova un evento su questo tema, contando anche qua sul territorio locale, ma una manifestazione che deve essere assolutamente di taglio europeo perché è la versione europea di una manifestazione americana e che quindi solo a quel livello, cioè solo a livello sovranazionale ha un senso fare. Quindi è una sfida, per noi anche questo è un salto di scala, ragionare a livello sovranazionale con gli impegni che tutto questo comporterà, ma ci sembra un'idea, una proposta interessante. Grazie. 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 Grazie.